Per me è un motivo di grande orgoglio questo di poter oggi ospitare all'interno della scuola questa piccola manifestazione che ricorda questo grande personaggio che è stato Gigi Panzieri. Lui ha insegnato per tanti anni all'Istituto Bramante e quindi questo suo sogno di poter far sì che ogni classe degli vari istituti della nostra provincia possano far sventolare la bandiera della pace è un sogno che aveva da tempo e quando la mia docente Ilaria Bezziccheri mi ha proposto di portare a termine questo sogno del professore, sinceramente ho subito accolto con molto favore questa sua proposta che poi naturalmente ha trovato il consenso dell'amministrazione comunale, della bottega ecosolidale per cui lui si è speso in tutti questi anni. Il professor Panzieri che appunto tra l'altro lui ha continuato a frequentare la nostra scuola e quindi io ho sempre visto in lui questa persona che ha voluto continuamente ricordare quanto appunto possa essere importante spendersi appunto con i ragazzi prima come docente e poi in tutti i suoi contatti che ha avuto spendersi appunto per promuovere appunto la pace, la solidarietà. L'opera di Gigi Panzieri negli anni è stata sempre proiettata verso un discorso di pace qualsiasi azione lui abbia intrapreso lo possiamo capire da quando ha iniziato a interessarsi di Keita e di come ha sviluppato tutto il progetto su Keita il mercatino delle meraviglie per i bambini questa predilezione che aveva per i manifesti e che abbiamo tutti noi cittadini pesaresi per i manifesti di Dolcini ma lui è sempre stato un uomo, un professore e un cittadino di grande responsabilità ha proiettato praticamente in tutta la sua vita un discorso di solidarietà di aiuto e di vicinanza alle persone più in difficoltà questo messaggio è passato tuttora stavamo lavorando anche ad esempio al progetto della pittura delle serrande arrugginite del centro storico avevamo già iniziato, i ragazzi del Mengaroni avevano già preparato i disegni da riprodurre le frasi eccetera e poi il lockdown ci ha fermato avremmo dovuto riprenderlo in questo anno scolastico purtroppo lui non c'è più ma il suo messaggio sicuramente è sempre vivo e lo resterà sempre perché un uomo che si è sempre così fortemente speso per la città e per la collettività non può essere dimenticato